Come Antenna Mattina con Massimo Melpignano, vicepresidente pugliese di Adusbef, il quale si è occupato, si occupa spesso e da sempre di obbligazioni, ha anche scritto un libro di recente, ho vinto una causa sui bond argentini, parlavamo prima del rischio dei titoli spazzatura, siamo davanti ad una grande galassia di titoli, i bond argentini sono stati anche un enigma per molti consumatori e purtroppo anche una brutta batosta. Melpignano ha anche scritto un libro che adesso diventerà qualcosa di più, no? Diventa sì un progetto bellissimo, non l'avevi mai pensato, anche perché io faccio l'avvocato di mestiere, quindi sono molto lontano da questo mondo, però un attore molto sensibile ai temi sociali che è Raffaello Fusaro, ha letto il libro e ne ha voluto trarre un monologo teatrale, da qui è stato realizzato questo spettacolo che andrà, ha già diverse date in cartellone, la prima sarà a Bari ovviamente, al Teatro Forma il 5 maggio, devolveremo l'intero ricavato in beneficenza per il sostentamento di tre case famiglia in Romania e poi sono previste tante altre date in giro per l'Italia, una bella esperienza, una bella emozione. Allora per restare in tema finanziario prendiamo un titolo del Sole 24 Ore Sud, l'inserto dedicato all'economia del mezzogiorno, Mutui, i giovani cercano l'affare online, così scrive in breve il Sole 24 Ore. A proposito di Mutui, per quelli a tasso variabile ci sono gli aiuti per rinegoziare la misura nel piano di sviluppo insieme al piano casa, alle norme su edilizie imprese, scrive la pagina di economia e finanza della Gazzetta del Mezzogiorno. Una panacea servirà a qualcosa per alleggerire il peso dei Mutui in un momento comunque difficile per l'economia, per le famiglie. Noi proprio da questi schermi, io e lei tante volte abbiamo fatto trasmissioni in cui ci siamo occupati di Mutui, credo che lei sia esperto più di me in materia di Mutui, viste le tante volte in cui ne abbiamo parlato. Però c'è un fatto, sono trascorsi quasi tre anni dal primo provvedimento che aveva l'ambizione di salvare le famiglie al collasso e il problema Mutui è ancora di grande stringente attualità. I provvedimenti ci sono stati anche. Ce ne sono stati, fin troppo è mancato il provvedimento vero, radicale, cioè quello di restituire al Mutuo la funzione che gli è propria, c'è consentire al cittadino di poter acquistare la propria casa e diventarne proprietario pagando un Mutuo in serenità. Oggi i Mutui sono delle trappole, non ci sono affari sui Mutui, come erroneamente invece titola il giornale che lei prima ha citato, i Mutui possono essere delle trappole, bisogna avere gli occhi aperti prima di firmare un contratto di Mutuo, informarsi molto e fare tutte le domande, sciogliere ogni dubbio, questo sicuramente.